Oggi in Municipio è stato stipulato il contratto per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del nuovo comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone, che sorgerà in via Planton. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo, l'ATI, associazione temporanea di imprese, costituita da Polese S.P.A. di Sacile e Grimmel S.R.L. di Fontana Fredda, con progettista allo studio Favero e Milan, avrà 530 giorni per l'edificazione dell'opera. Saranno realizzate la palazzina comando, la mensa, l'autorimessa con officina e la residenza. Questa mattina il sindaco Claudio Pedrotti, l'assessore ai lavori pubblici Renzo Mazzer, il comandante dei Carabinieri colonnello Fabio Antonazzo hanno presenziato alla posa del cartello del cantiere che avvia formalmente l'appalto integrato. Oggi è stato firmato il contratto per l'affidamento dei lavori che riguardano il nuovo comando provinciale dei Carabinieri nella città di Pordenone. Successivamente a questa firma ci sono i 60 giorni di tempo per presentare da parte dell'impresa, anzi dell'associazione temporanea di imprese il progetto esecutivo, la validazione che faranno i nostri uffici tecnici e poi l'inizio materiale del cantiere. Oggi abbiamo posizionato il nuovo cartello che presenta anche un rendering con il quale si può intravedere quale sarà il futuro comando in quest'area in via Planton. È un'altra importante struttura messa a disposizione delle forze di sicurezza del nostro paese perché gli diamo anche una logistica per operare migliore dal punto di vista tecnico, funzionale e soprattutto una logistica che è di proprietà pubblica e quindi non paghiamo affitti privati ma li paghiamo all'ente pubblico, in questo caso al comune che realizzerà questo comando provinciale. È una, chiamiamola, pietra miliare sul percorso della costruzione del nuovo comando provinciale, siamo molto contenti e soddisfatti di essere arrivati a questo punto e siamo anche molto fiduciosi che i lavori verranno svolti oltre che in maniera adeguata anche in maniera abbastanza celere, quindi fra pochissimo tempo Porto e non potrà veramente gustarsi il nuovo comando provinciale dell'arma. Grazie. Grazie.